Carissimi telespettatori ben ritrovati, oggi parleremo di tecnologia durante questo primo approfondimento in studio. Do subito quindi il benvenuto a Gabriele Aimonecat, peer manager di Bosch Italia, che dovrebbe essersi collegato con noi. Ecco, lo vedo nel nostro Ledwell. Ciao Gabriele, grazie per averci raggiunti virtualmente. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, è un vero piacere ritrovarti, ritornare a parlare della realtà Robert Bosch e soprattutto in questo periodo vi rendete proprio protagonisti in questa fase molto particolare della storia dell'automobile dove non si fa altro che parlare di mobilità sostenibile. Quindi io entro subito anche con te nel vivo per sapere qual è la posizione di Robert Bosch da questo punto di vista e ti faccio una domanda anche un po' particolare. Si rispetta l'ambiente solo con vetture elettriche? Intanto inizio a risponderti no. Poi argomento, no, battute a parte. Chiaramente il trend dell'elettrificazione è segnato, quindi anche noi come azienda stiamo investendo parecchio sul tema dell'elettrificazione della mobilità del futuro. Chiaramente stiamo vivendo una vera e propria fase di transizione nella quale ci preme ricordare come molto è stato fatto, si sta facendo e si farà anche per tutte le propulsioni alternative, quindi l'efficientamento dei motori benzina, dei motori a gasolio, dei carburanti alternativi. Quindi diciamo che tornando appunto alla tua provocazione, noi siamo per la neutralità tecnologica. Ecco, a questo proposito all'inizio del mese di settembre si è tenuto a Monaco di Baviera il famoso IAA, il salone dell'auto che per tanti anni ha avuto come sede Francoforte. In questo caso si è spostato a Monaco di Baviera e il tema principale era per l'appunto la mobilità elettrica. Pare ci fosse un solo modello con motore termico in tutto, una sola anteprima con motore termico in tutta la Kermess. Anche voi eravate presenti in questo importante appuntamento e avete anche presentato delle soluzioni ecosostenibili un po' per tutti i tipi di mobilità. Magari ce le vuoi raccontare brevemente? Tantissima elettrificazione anche da parte nostra, quindi un po' il portfolio che il gruppo Bosch è in grado di offrire in tal senso, per cui motori elettrici, alternatori, tutta la componentistica che serve, come abbiamo detto prima, a elettrificare la mobilità. E non da ultimo, interessante, in anteprima mondiale abbiamo presentato il primo cavo universale che permette di ricaricare la macchina in maniera ancora più semplice. Questo cavo che abbiamo presentato in anteprima mondiale, innanzitutto è il 40% più leggero, quindi anche nell'utilizzo quotidiano è molto più pratico, ha tutta una serie di adattatori e finalmente perde quel famoso box, quella famosa mattone di ricarica tipico dei cavi delle vetture elettriche. Eravate presente anche ad un altro evento milanese, sempre nel mese di settembre, si chiama Milano City Tech, e da questo punto di vista si parlava di sicurezza e di anche mobilità all'interno delle città. Voi avete presentato l'Emission, leggo qui Monitoring Box, che è una soluzione per monitorare lo stato di qualità dell'aria. Ci vuoi spiegare come funziona questo dispositivo? Intanto parto appunto da, abbiamo presentato due prodotti, quello che hai citato tu, l'Emission Monitoring Boxing, che è uno scatolotto, chiamiamolo così, una centrale di controllo della qualità dell'aria. Questo dispositivo permette di rilevare tutta una serie di parametri e di metterli a disposizione delle municipalità, delle amministrazioni comunali per poter appunto intraprendere azioni o in ogni caso verificare lo stato di qualità dell'aria. Poi abbiamo anche presentato un nuovo pacchetto che permette di realizzare la cosiddetta frenata automatica di emergenza, per cui un grandissimo contributo in termini di sicurezza, in modo tale che i mezzi, i tram che circolano nelle città, se dotati di questo dispositivo, possono frenare in maniera autonoma. Cambiando un po' argomento, seppure rimanendo all'interno della mobilità sostenibile, c'è un progetto molto interessante che avete realizzato insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia, con i ragazzi, quindi gli studenti, avete realizzato una web series dedicata alla mobilità del futuro. Si chiama Driverless, è una vera e propria miniserie di sei puntate, vi consiglio di andarvele a vedere, le trovate anche su YouTube, veramente divertenti. L'obiettivo era anche quello di coinvolgere gli studenti universitari e le varie aziende che noi abbiamo all'interno del gruppo Bosch in Italia che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, quindi veramente in un periodo anche, come sappiamo, perché ricordiamoci che tutto questo è avvenuto durante il famoso periodo di lockdown, per cui di tenere viva anche negli studenti la voglia di ricerca, la voglia di progettare e di pensare insomma anche al futuro della mobilità in senso un po' più allargato, nonostante il momento così critico. Un'ultima domanda prima di salutarci, anche qui una sorta di provocazione come avevo già anticipato anche all'inizio della nostra chiacchierata, è vero che entro il 2035 ci sarà uno stop ai motori termici? Onestamente il tema qua è parecchio complesso, certo l'obiettivo, come detto all'inizio del mio intervento, è chiaro, la strada dell'elettrificazione è abbastanza tracciata, si vorrà sempre di più imporre una riduzione in termini di emissioni ai motori endotermici tradizionali e ovviamente l'obiettivo se si porta questo valore praticamente a zero diventa automatico diciamo in maniera indiretta dichiarare che il motore termico non potrebbe essere più utilizzato. Di qua si apre poi un percorso, come dicevo, di transizione, di necessità quindi di dar modo all'industria automobilistica, all'industria e al settore della mobilità di adeguarsi, perché la strada è ancora molto lunga e necessaria soprattutto per vedere anche il tema dei veicoli commerciali, delle consegne, dei mezzi pesanti, insomma è un tema particolarmente complesso. Gabriele, io ti ringrazio per essere stato con noi in questo approfondimento e ci vediamo la prossima volta. È sempre un piacere, grazie a voi dell'invito e un saluto a tutta la redazione e a tutti i telespettatori. Mi unisco ai saluti di Gabriele, ringrazio i telespettatori per aver seguito questo approfondimento, continuate a guardare la puntata di Safe Drive e poi noi ci rivediamo per i saluti. Grazie a tutti.